Rapaolo, arrestato spacciatore 37enne, tornava in treno da Milano ad aspettarlo in stazione Cioni Carabinieri. Domani sera negozi aperti a Chiavari per l'inizio dei saldi. Bernardin, arresta presidente, consigliere comunale di minoranza a Santa Margherita Ligora, aveva presentato le proprie dimissioni dal comitato a festa della primavera, dopo essere stato denunciato per il sequestro di 125 kg di botti in un fondo adibito a magazzino in centro città. Dimissioni respinte. Buonasera dal TG Tiguli, apriamo con la cronaca. Restato a Rapaolo un 37enne, trovato con eroina e cocaina, era tornato in treno da Milano ad attendere in stazione a Rapaolo i Carabinieri. I Carabinieri di Santa Margherita Ligore hanno proceduto all'arresto di un rapallese di 37 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, presso la stazione ferroviaria di Rapaolo, avevano notato che l'uomo al mattino era salito su un treno per Milano e la sera stessa era tornato nel Tiguglio. Qui il 37enne si è incontrato con due persone già conosciute alle forze dell'ordine quali assuntori di droghe. Sottoposta per acquisizione, la rapallese è stata trovata in possesso di una bustina contenente 25 grammi di eroina e di una dose di poco più di mezzo grammo di cocaina, nonché 140 euro in banconote da 10 e 20 euro ritenute provento dell'attività illecita di spaccio. La successiva per acquisizione presso il domicilio dell'uomo permetteva di sequestrare ai militari un bilancino di precisione, materiale atto al taglio e confezionamento dello stupefacente, nonché una modica quantità di hashish. E adesso ci spostiamo per tutt'altro motivo a Chiavari, perché i giochi di Piazza Roma sono oggetto di ripetuti atti vandalici. Così il comune di Chiavari interviene a seguito del ferimento alla tempia di un bambino genovese di 4 anni che nei giorni scorsi si è tagliato con una vita esporgente mentre giocava con la solellina sulla giosta principale dei giochi della piazza appunto della città dei Portici. Con uno noto il comune chiavarese spiega perché nei giochi fosse presente una vita esporgente. Nelle ultime settimane, in particolare la notte di Capodanno, il parco giochi è stato oggetto di ripetuti atti vandalici. Circa due settimane fa ragazzi in età adolescenziale hanno danneggiato in particolare il gioco del castello. Gli operai nel comune sono prontamente intervenuti posizionando un cartello di divieto e considerando che tale cartello potesse facilmente essere rimosso, è stata anche sigillata per maggiore sicurezza la struttura con pannelli in legno e compensato per interdirne l'accesso ed evitare incidenti. Purtroppo in seguito una delle chiusure che vietava l'accesso al castello è stata infatti divelta, fatto che ha lasciato un ingresso aperto in zona che era interdetta e nella quale si è verificato lo spiacevole incidente. Fortunatamente senza gravi conseguenze, al bambino lievemente ferito da una vita era stata posizionata per bloccare il pannello di compensato poi rimosso dai vandali. Nella nota di Capodanno, prosegue la nota, con un ulteriore atto di vandalismo è stato divelto un seggiolino di alta lena prontamente rimosso per evitare situazioni di pericolo. La mattina dell'incidente il padre del piccolo, mentre questi veniva portato a pronto soccorso con la madre, aveva chiamato la polizia municipale che ha chiuso la struttura a scopo precauzionale. L'amministrazione conclude, ancora, il comune provvederà ad ordinare i pezzi mancanti e a ripristinare e mettere in sicurezza i giochi del palco al più presto possibile. I giochi erano stati già teatro di un'altra disavventura lo scorso ottobre quando un bambino si era ferito picchiando la testa contro uno spigolo del gioco principale che nell'immediato era stato transennato dalla polizia municipale per precauzione. E adesso parliamo della peruviana che, 34enne, colpita da meningite che è fortunatamente fuori pericolo, intanto parola semplice, influenza in pazza e l'ASL4 chiavarese corre ai ripari. Non è più in pericolo di vita, la peruviana di 34 anni è ricoverata a San Martino di Genova per meningite. La donna si era presentata al pronto soccorso di Lavagna la sera di Natale e da qui era stata poi trasferita a Genova vista la gravità delle sue condizioni. La donna ora sta migliorando e verrà trasferita al reparto di malattie infettive. Sta meglio anche l'altro paziente ricoverato a Genova per meningite, un 67enne ricercatore indiano che si trova al Galliera. I medici hanno deciso di mantenere la prognosi riservata ancora per 24 ore, ma le sue condizioni sono in via di miglioramento. La semplice influenza invece ha costretto l'ASL4 chiavarese a correre ai ripari. È stata così applicata la procedura aziendale, emergenze da iperafflusso di pazienti in pronto soccorso, che prevede l'attivazione di sette posti letto come area di crisi, il blocco dei ricoveri di elezione e di quelli derivanti dall'attività libero professionale, ad eccezione di quelli correlati a patologie oncologiche e a interventi di chirurgia protesica, e l'utilizzo per quanto possibile dei letti di dei hospital per ricoveri ad agenza ordinaria. Si sta inoltre provvedendo ad effettuare la valutazione del paziente direttamente in pronto soccorso, per ricoverare direttamente in RSA e in cura intermedia quei pazienti che rispondono ai requisiti per il ricovero in tali ambiti. Le misure, fanno sapere dall'ASL 4 chiaverese, rimarranno attive almeno fino a domenica prossima. I carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 29enne residente a 690, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, il quale nella giornata del 30 dicembre scorso, al momento delle verifiche presso la sua abitazione, è risultato assente al controllo. E in occasione dell'inizio dei saldi, torna a chiaveri si saldi chi può, l'iniziativa promossa dal Cive ci vediamo in centro e dall'ASCOM che prevede l'apertura serale dei negozi. L'appuntamento è per domani, gli esercizi che aderiranno all'iniziativa terranno alzate le serande fino alle 23.30. Il giorno dopo, festa nell'Epifania, i negozi resteranno inoltre aperti, i saldi in Liguria si concluderanno, vi ricordo, il 18 di febbraio. Andrea Bernardin resta presidente del Comitato Festa della Primavera, Consiglio Comunale d'Opposizione, è uno dei due commercianti denunciati a Santa Margherita Ligure per i botti. Andrea Bernardin e Massimo Violani restano rispettivamente presidente e vicepresidente del Comitato Festa della Primavera a Santa Margherita Ligure. I due, in qualità di soci della ditta Castelli recentemente, sono stati denunciati dai carabinieri per una vicenda legata al possesso e alla vendita di artifici pirotecnici secondo gli inquirenti non di libera vendita in Italia. Tutto era partito alcuni giorni fa, quando i carabinieri di Rapallo, in collaborazione con quelli di Santa Margherita Ligure, hanno nuovamente denunciato a piede libero uno dei due commercianti denunciati nei giorni scorsi per i 125 kg di artifici pirotecnici non di libera vendita tenuti in un fondo a Santa Margherita. I militari, infatti, hanno trovato altri 20 kg di fuochi, per un totale di 300 artifici pirotecnici all'interno di sacchetti della spazzatura in un magazzino nella periferia di Santa, sede dell'Associazione Culturale sita a pochi metri da una zona residenziale. Il materiale è stato affidato, come gli altri 125 kg, in custodia giudiziale ad una depositeria specializzata di sestre elevante. Per questo motivo, quindi, ieri sera Bernardin e Violani si sono presentati dimissionari davanti al direttivo del Comitato, ma le dimissioni sono state respinte in quanto, si legge in una nota diramata dal Comitato, l'episodio in sé nulla a che vedere con il lavoro che Andrea e Massimo ottimamente svolgono all'interno del Comitato. La prossima festa della primavera è in programma dal 17 al 19 marzo. Ci spostiamo a Rapallo, dove torna dopodomani, venerdì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, il puntuale è l'appuntamento con la Befana del Circo dei Pescatori Dilettanti Rapallesi. La vecchina arriverà dal mare a bordo di un gozzo d'epoca, nel segno della tradizione, intorno alle 10.30 presso l'imbarcadero dei Battelli. Quindi raggiungerà il chiosco della musica, dove accoglierà tutti i bambini ai quali sarà donato un piccolo omaggio. In cambio la Befana chiederà ai bambini una fila strocca. Nessun bambino resterà scontento. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Rapallo e il Circo dei Pescatori, infatti sono pronti per tutti circa 1.600 giocattoli. E ora parliamo del secondo raduno motociclistico Belin-Entreffen. Domenica 15 gennaio torna a Barba Gelata per il secondo anno consecutivo un motoraduno che l'anno scorso aveva fatto un ottimo successo, grandi adesioni e quindi ritornate nuovamente lassù, nel tetto della Liguria. Eh sì, abbiamo avuto talmente riscontri, un risultato eccezionale l'anno scorso che ci è venuta voglia di farla di nuovo. L'abbiamo organizzata per domenica 15 gennaio, d'accordo con la parrocchia di Barba Gelata, la chiesa di Barba Gelata che ci danno l'uso della casa, che è dietro la chiesa nuova e d'accordo con il comune di Lorsica che ci ha comunque concesso degli spazi. E speriamo di avere come alleato il tempo atmosferico e di avere un risultato ancora migliore di quello dell'anno scorso. Intanto ricordiamo chi organizza questo motoraduno e chi fosse interessato come si può aderire. Organizzare l'organizzo io assieme a un gruppo di amici che poi cito, che fanno tutto il lavoro. Come ho scritto negli eventi su Facebook pubblicati, il numero di telefono a cui rivolgersi è il mio, che è 393-7855-440. Non ci sono vincoli particolari, nel senso che siccome l'iscrizione è gratuita, se uno vuole partecipare, sì, mi può chiamare prima, ma può anche presentarsi direttamente domenica mattina lassù e siamo contenti lo stesso, anzi ancora di più. Si chiama Belline & Treffen. Belline & Treffen, che se mi è concesso a dirlo, sarebbe il raduno delle belline, perché per andare a barbagerata il 15 gennaio magari troppo normali non dobbiamo essere. Però è bello anche così, perché poi ho un motoraduno che è in beneficenza. raccogliamo fondi da destinare all'asilo di IepoCapa in Guatemala, che è un asilo gestito da un'associazione di un nostro amico, un'associazione che si chiama Recco, con due K. Destiniamo il 100%, il 100% lo puntualizzo, di quello che incassiamo, perché siamo, questa è la mia parte, diciamo, organizzativa, quello lì sì che sono un campione, che paghiamo tutti i costi con l'apporto di alcuni sponsor, e quindi tutto quello che incassiamo là su viene destinato alla beneficenza, all'asilo di IepoCapa. Organizziamo una bellissima lotteria, perché quest'anno abbiamo veramente tanti premi che ci sono stati donati da grosse aziende, sia da grosse aziende del settore motociclistico, sia da piccole aziende qua del comparto locale, che ci hanno appoggiato, ci hanno regalato dei bellissimi premi e organizziamo questa lotteria, che è un po' il nostro core business, chiamiamolo così, per incassare fondi. Chiedo a tutti di partecipare, e anzi adesso cito gli amici che mi seguono in questa avventura, che poi sono quelli che fanno il grosso del lavoro, quindi i ringraziamenti maggiori vanno a loro. Non sono né in ordine alfabetico, né in ordine di importanza, ma sono come mi sono venuti in mente. Ubaldo Castellini, Sergio Carpicci, Franco Cozzani, Paolo Scoccia, Omar Isoppo e sua moglie Michela, Daniele Norris e sua moglie Milena, Ivano Canese, Stefano Podestà e sua moglie Maura, e quest'anno viene anche la figlia Rachele, aiutarci, Gianni Valle, Graziano Sommacampagna con i figli Davide e Samuele, Gianluigi Capitta, Sandro Razzetto, Gian Ruello e mia moglie Cristina, non so se verrà anche mio figlio, che l'anno scorso era venuto, se l'ha trovato bene, ma chissà. Il sindaco di Chiaveri, Roberto Levaggi, oggi parliamo di piano del commercio, sindaco, un provvedimento, un'iniziativa che andava assolutamente presa, per quale motivo? Era un impegno che ci eravamo presi anche nel nostro programma elettorale del 2012, l'Inter è stata anche complessa e lunga, anche perché si sono succedute varie leggi regionali, l'ultima di circa 5-6 mesi fa, fatta dalla nuova giunta regionale. Pertanto il piano adottato va a modificare, ad aggiornare un piano che ormai era vecchio, perché era superato dalle normative attuali, e va ad integrarsi perfettamente all'interno del Tiguglio per dare a Chiavari quella che è la sua vera valenza di centro commerciale di alto livello, perché Chiavari è una città di servizi, è una città che è un po' al centro baricentrica rispetto a tutte le valate e a tutto il nostro comprensorio, ed è giusto che la sua peculiarità venga difesa. Questo piano non pone vincoli particolari, perché siamo in un momento di massima liberalizzazione anche in questo settore, però alcuni punti fermi li mette nella perimetrazione, per esempio, che non è solo limitata al puro centro storico, ma anche alla parte ottocentesca e novecentesca della città, una parte di Corso Dante, Piazza Roma, Corso Garibaldi, dove lì vorremmo che si insediassero, così come c'è già in altre zone, dei negozi di alto valore aggiunto che creano attrattiva anche turistica e commerciale a Chiavari. Una di queste realtà è proprio Vientella, che ha cambiato completamente viso rispetto a quando si è insediata questa amministrazione. Una tradizione, peraltro, quella di Vientella, che è antichissima, era proprio effettivamente la via del commercio. Che tipo di provvedimenti avete adottato su questo? Sì, in effetti ci sono state tante lamentele quando abbiamo invertito il senso di via raggio, però io ritengo che al di là della criticità che bisognerà un po' valutare come risolvere, anche se ormai passano meno macchine nel centro storico, al di là della criticità che c'è lì nella chiesa sconsacrata dei Filippini nella zona di via Ghio del doppio stop, però noi abbiamo tolto da Via Entella quelle code chilometriche che c'erano quando vi era la confluenza tutta su Piazza Matteotti. Questo alleggerimento di traffico ha permesso una visibilità migliore soprattutto nella zona porticata che precedentemente era quasi una camera gas e ho notato passando di lì che sono nati dei bar piccoli ristoranti dei bistrò dei negozi molto belli siano essi di erboristria istituti di bellezza insomma c'è tutta una serie di negozi un fiorire che io ritengo che pongano Via Entella non dico a livello del carugio dritto perché noi abbiamo varie zone che storicamente sono più appetibili dal punto di vista commerciale però insieme a Piazza Fenice la zona di Via Raggio e la zona di Via Entella che sono tutte a margine del vero centro commerciale che abbiamo sempre visto noi come chiavaresi anche quelli che vengono da fuori possa essere ampliato anche questo punto commerciale senza dimenticare che anche Piazza Roma ha un altro valore. Nel piano del commercio sicuramente c'è un'idea di lungimiranza qual è stata? L'idea di lungimiranza è quella di considerare Chiavari una città molto aperta Chiavari è una città che può ha degli spazi ancora vivibili soprattutto fuori dal margine del centro storico anche per insettiamenti di un certo livello la cosa che vogliamo sottolineare è che Chiavari attraversa anche questo piano così come lo dice il piano urbanistico comunale che recentemente abbiamo approvato tutte le osservazioni e che quindi sta verso l'iter finale perché manca un'approvazione della regione poi diventa esecutivo anche il piano urbanistico il piano commerciale si integra perfettamente con l'urbanistico e fa di Chiavari una città di servizi che è al centro del Tiguglio Cosa manca ancora secondo lei sul quale è necessario lavorare? La cosa su cui bisogna lavorare è un collegamento più veloce con l'entroterra cioè Chiavari vive perché già dai tempi di Napoleone protettorato degli appennini e ai tempi più antichi da via del sale via del pane confluenza col mare con le zone del Piacentino del Parmense della Lombardia attraverso la zona di Busalla Chiavari vive se ha un bel collegamento e un osmosi con l'entroterra ci manca sia esso fatto sulla sponda di Cogono o sulla sponda di Caperana non ha importanza un collegamento veloce verso l'entroterra Moreno Gerardi titolare della pista di ghiaccio Paradise On Ice in Piazza Fenice a Chiavari e ai microfoni di Antella TV per una regione molto particolare per la prima volta in Liguria abbiamo il piacere di ospitare sulla mia pista Ondra Iotarek e Valentino Marchei campioni europei campioni italiani per diverse volte hanno deciso di visitarci e di fare una esibizione un'esibizione gratuita per tutti e speriamo che ci sia tantissima gente ecco quando si svolgerà questo appuntamento? ma domani esattamente mercoledì 4 gennaio alle ore 18 alle 6 del pomeriggio perciò appuntamento qua ragazzi mi raccomando non è la prima volta che Paradise On Ice ospita grandi personaggi dello scenario internazionale? ma cerchiamo di fare il nostro meglio in questo caso Chiavari è 10 anni che ci ospita abbiamo voluto fare una cosa particolare solo per Chiavari 10 anni a Chiavari 10 anni di successi fino a che data resterete con noi? rimarremo qui fino al 26 di febbraio e tutti i giorni saremo aperti dal pomeriggio alle 4 fino alle 9 nei giorni feriali e dalle 10 alle 10 orario continuato al sabato e alla domenica tutti i giorni siamo aperti e per chi volesse imparare per chi avesse il desiderio di iniziare a praticare il patinaggio sul ghiaccio come può fare? diverse ragazze vengono ad allenarsi a imparare a patinare qui abbiamo le insegnanti in gamba qualificate tra l'altro una è mia figlia molto carina devo dire la verità e anche molto brava 3 2 1 freeze stop free bene non mi resta che lasciare le previsioni in media per la giornata di domani e la programmazione di Interla TV ricordo che l'informazione locale dalla nostra emittente atternerà domani alle 12.45 alle 14.15 con il TG Tguglio urgente quindi con Marisa Spina mentre in serata andrà in onda il TG Tguglio tradizionale alle 19.30 alle 22.45 grazie per l'attenzione a domani Previsioni per domani giovedì 5 gennaio una discesa di aria fredda di origine artica investe la Liguria portando un sensibile calo delle temperature giornata di cielo azzurro e terzo venti da nord di burrasca anche rafficati mare mosso umidità su valori bassi le temperature previste sulla costa tra 3 e 10 gradi nell'entroterra tra meno 3 e 5 gradi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti